allora tieni che mastro natale e di via bus campana ea pc q bus campani metri altri ma sono tali esiste di aspetto così si aspetta la riciclietta si chi si face un tondo e i traciotti insomma e pure i sindaco a i sindaco si sdastino perciò cur ti vieni prea nuotate t'upren e t'esiste e ti sottine i nibi t'umastro natale sono venuta che mi discusi e io non sento capire e io non sento e io non sento e io non sento la sua stessa voce rimbombare e tu che è scusa e io non sento capire invece io non sento